Bene, innanzitutto grazie davvero della vostra partecipazione. A me tocca introdurre questa ora e mezza insieme, piuttosto densa. Abbiamo cercato di avere anche un metodo molto rapido e dinamico e quindi credo sia una buona occasione di interazione fra tutti. Permettetemi un brevissimo ringraziamento, oltre a Gallerie d'Italia che ci ha appena portato il suo saluto, a tutti i miei colleghi della Compagnia di San Paolo, non solo per l'organizzazione di questa giornata, ma perché, come vi dirò tra poco, dietro questa ora e mezza c'è un lungo lavoro di molti mesi. Ha che fare, che ci ha accompagnato in questo percorso e naturalmente a molti di voi che sono qui presenti, perché non sono stati presenti solo oggi, ma anche in alcuni passi importanti di avvicinamento a questa giornata. Il tema della partecipazione attiva. Da diverso tempo la nostra fondazione ha provato a declinare e ad affrontare temi che hanno a che fare con la partecipazione. Già da quasi dieci anni si è posto un tema di partecipazione culturale, quindi azioni dedicate ai temi di audience development e audience engagement. Abbiamo lavorato sui temi della cittadinanza informata, della comunicazione della scienza, c'è una lunga tradizione di interventi sui temi del protagonismo giovanile, questo in diverse strutture della Compagnia. Da qualche anno abbiamo provato a focalizzare, nell'ambito di un ripensamento delle nostre linee, una missione specifica dedicata appunto al tema di favorire partecipazione attiva. Abbiamo provato a far convergere in questa chiave una serie di azioni che nel 2021, grazie al nostro lavoro di pianificazione strategica 21-24, hanno provato a costruire una cornice interpretativa. Una cornice che abbiamo voluto lasciare volutamente un po' ampia, perché da un lato volevamo mantenere uno sguardo aperto su quello che i territori potevano proporre, sia in termini di bisogni e di esigenze, ma sia anche in pratiche da conoscere, sostenere e sviluppare. Dall'altro abbiamo avviato un dialogo con alcuni soggetti, che abbiamo chiamato nel nostro gergo alleati strategici, una serie di realtà sul territorio, operanti ciascuno in ambiti tematici diversi, ma che in qualche modo potevano essere degli interlocutori importanti, su cui fare anche degli investimenti organizzativi, affinché il loro lavoro, alla fine del nostro piano strategico, potesse avere un maggiore impatto sul territorio. Che cosa abbiamo capito e che cosa abbiamo conosciuto in questi anni di lavoro? Beh, innanzitutto abbiamo capito che c'è una domanda crescente di partecipazione. Tutto quello che è successo negli ultimi anni, non devo ricordarvelo, la crescita delle diseguaglianze, la pandemia, i conflitti e tutta una serie di altri eventi, hanno portato ad una evidente crescita della domanda di partecipazione dei cittadini. Abbiamo anche capito che partecipazione significa anche adottare dei metodi di lavoro, progettazione partecipata a volte rischia di essere un'etichetta, un po' un abbellimento che si dà ad alcuni processi, mentre invece abbiamo capito che è un lavoro magari a volte faticoso, ma che sicuramente ha delle regole e delle opportunità che portano a dei risultati di maggiore impatto. Abbiamo inoltre capito che, parlando di partecipazione attiva, i territori non sono tutti uguali, esistono delle tipicità. Sicuramente Torino ha una ricchezza di reti e di esperienze sul tema da molti anni. La città di Genova è una delle città con la presenza di maggiori patti territoriali. Esistono esperienze in Piemonte, dalle Porediese, al Pinerolese, in cui il tema della partecipazione dei cittadini ha delle peculiarità importanti. Abbiamo capito anche che esistono delle aree, per esempio le aree interne montane, in cui c'è una maggiore difficoltà a entrare in contatto, in relazione con interlocutori locali e che quindi meritano probabilmente, come è stato in questi anni, alcune azioni mirate. Tutto il lavoro di questi anni quindi ha avuto una focalizzazione, trovate adesso proiettate nelle pareti di questo bellissimo spazio, alcune parole chiave che sintetizzano alcune delle nostre linee di intervento, sono dei bandi, sono dei progetti operativi, sono delle partnership con istituzioni culturali e istituzioni territoriali. Un ultimo elemento che vorrei aggiungere di questa introduzione, prima di arrivare poi al senso più immediato di questa giornata, è che naturalmente abbiamo identificato nella fascia giovanile un elemento di maggiore urgenza e maggiore attenzione. Questo in due modi, sicuramente attraverso delle azioni dedicate, espressamente dedicate alle fasce più giovani, ma dall'altro anche all'inserimento di elementi di attenzione, di sensibilità particolare nei nostri diversi strumenti di intervento alle fasce giovanili, a prescindere da azioni espressamente dedicate. Dopo questi anni di lavoro ci è parso interessante fermarci un momento a pensare e provare, dopo questi anni in cui noi abbiamo avuto delle definizioni sul campo di che cosa intendiamo per partecipazione attiva, ma abbiamo avuto meno occasione di riflettere, ci siamo fermati un momento a riflettere su quello che può essere una definizione di partecipazione attiva e naturalmente l'abbiamo fatto con un metodo condiviso, cercando di coinvolgere tutti gli interlocutori con cui in qualche modo abbiamo lavorato o stiamo per lavorare nel prossimo arco temporale. Che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti innanzitutto da un gruppo più ristretto, quindi il nostro staff interno di dipendenti, di collaboratori che lavora nella compagnia su questi temi e aiutati appunto da Che Fare, che è stato un po' chi ci ha portato, chi ci ha aiutato anche con uno sguardo terzo rispetto a questo processo, abbiamo provato a identificare alcuni temi, alcune prime definizioni, alcune problematiche che ci sembrava interessante far emergere. Da qui è nato poi un secondo step, che è stato quello di discutere queste prime evidenze con alcuni gruppi di interlocutori. Il primo, quel gruppo che vi dicevo prima, di alleati strategici, di enti, con cui siamo in stretta collaborazione su alcune progettualità, ma poi abbiamo pensato di allargare questa discussione a una serie di altre, si dice in gergo stakeholders, che vanno da altre fondazioni, non necessariamente di origine bancaria, a enti territoriali, sia sul versante politico che sul versante tecnico dei funzionari, al mondo della ricerca dell'accademia, a operatori sociali e culturali che si occupano di questo tema. E quindi in questi successivi step, un po' a cerchi che piano piano si allargano, abbiamo provato a trovare dei discussant rispetto ad alcuni temi e ad alcune ipotesi di lavoro verso una definizione di partecipazione attiva, cercando appunto nel metodo della coprogettazione e della partecipazione uno dei fondamenti di questo lavoro. fino ad arrivare a oggi in cui è l'ultimo cerchio di questo lavoro e quindi provare a condividere con un numero più ampio di interlocutori il lavoro che abbiamo fin qui fatto con il metodo che poi Bertram Nissen ci racconterà per cercare di condividere una nostra ipotesi di lavoro e anche per creare un vocabolario comune. Quando dico vocabolario non dico soltanto le parole, le etichette, ma anche le riflessioni, i concetti che stanno dietro le parole che vedrete non soltanto nel mio intervento ma poi anche negli interventi successivi verranno molto evidenziati. Perché proprio attraverso le parole, come troverete poi nei materiali, proviamo a sintetizzare una serie di elementi e riflessioni per noi molto importanti. Ultimo elemento, perché dico molto importanti, non è soltanto il racconto di un percorso che abbiamo fatto ma perché la nostra fondazione da qui a qualche mese si troverà a iniziare a lavorare sul nuovo piano strategico 2025-2028 e mancano pochi mesi, sembra ieri che facevamo un piano strategico 21-24 invece tra poco saremo già a ragionare sul prossimo. Quindi occasioni come queste sono una delle fonti principali che alimenteranno le nostre riflessioni insieme a tante altre fonti però questa mi sembra particolarmente significativa che alimenterà le nostre riflessioni che orienteranno i nostri lavori nel prossimo quadriennio. Per questo, diceva all'inizio, un'occasione oggi molto importante non solo per restituire e raccontare il lavoro ma per raccogliere e condividere riflessioni per pensare al futuro. Un paio di notazioni tecniche poi Sandra guardo se ho dimenticato qualcosa come sempre dice di no e volevo dire che abbiamo creato un po' di materiali a supporto perché rimangano anche dopo questo nostro incontro li trovate sul nostro sito se vi siete registrati avete avuto questo piccolo materiale dove oltre i graditissimi biglietti per le visite alle mostre avete anche un QR code che punta direttamente alla nostra pagina sul sito dove potete scaricare una sintesi di alcuni punti che verranno trattati oggi e le biografie e i riferimenti di tutti quelli che interverranno. Io vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione ringrazio Bertram che invito direi che adesso tocca a te. Grazie. Grazie.